Il nostro sonno ha tanti nemici, primo fra tutti lo stile di vita, quindi adeguare i nostri ritmi durante il giorno permette anche di migliorare quello che possiamo ottenere dal nostro sonno notturno. Ci sono delle abitudini fondamentali da preservare durante il giorno, indubbiamente un'alimentazione sana è fondamentale per avere una buona qualità di riposo notturno, ma lo sono anche una corretta attività fisica sia in termini di intensità sia in termini di orario in cui facciamo attività fisica, meglio farla prima delle due ore che precedono il sonno per esempio. Altro aspetto fondamentale è l'esposizione alla luce ambientale, la luce solare regola la produzione della nostra melatonina, una sostanza prodotta dal nostro cervello che regola il ritmo circadiano, quindi avere un'esposizione luminosa adeguata nelle ore diurne e un'esposizione al buio altrettanto adeguata durante il sonno, preserva il nostro ritmo circadiano e ci fa ottenere un maggior ristoro dal sonno.